Andiamo avanti nell'esplorazione del nuovo Photoshop CS6, chiaramente questi non sono tutorial, sono semplicemente sguardi un po' da vicino delle funzionalità che ci stanno colpendo di più e da buon fotografo, non nel senso che sia particolarmente bravo ma nel senso che mi ci applico, uno degli strumenti che si utilizza più frequentemente anche a scopo prettamente compositivo è la taglierina, lo strumento che conosciamo tutti per ritagliare le immagini e per dare appunto un nuovo assetto compositivo. Bene, innanzitutto diamo un'occhiata al pannello di controllo che cosa ci dice, vediamo una serie di presenze nuove, prima di tutto questa sorta di bolla da muratore che ci consente di raddrizzare letteralmente la nostra immagine, quindi io lo seleziono e una volta si usava lo strumento righello per fare questa cosa, giusto? Ed ho un bell'invio. Ok, poi abbiamo chiaramente il discorso della rigola dei terzi, abbiamo la possibilità di attivare come griglie la griglia diagonale, triangolare, la proporzione aurea eccetera eccetera eccetera. Questo tra l'altro detto fuori dei denti che viene acquisito direttamente da l'ultima release di Lightroom, la numero 4. Ma la cosa veramente importante è non selezionare questa casellina, cioè delete cropped pixels. Che cosa significa? Ecco, se noi la selezioniamo, quello che succede quando tagliamo l'immagine, Photoshop si comporta esattamente come in tutte le altre versioni, cioè taglia i pixel e li butta nel cestino, ok? Per dirlo in maniera più semplicistica. Se la deselezioniamo, questa casellina, guardate che cosa succede. Io intanto vado a ritagliarmi l'immagine e vedete che in maniera molto smart, come dicono gli americani, il mio taglio segue l'immagine. Ma diciamo che ho fatto il taglio nella maniera in cui mi piaceva, ok? In cui intendevo ridimensionare l'immagine. Diamo un bel invio e la mia immagine viene sì ridimensionata, ma io in qualsiasi istante posso andare a riprendermi l'immagine originale che in realtà non viene mai completamente tagliata o cancellata, quindi posso ritornare a rigestirmi la composizione della mia fotografia. Questa è una figata pazzesca. Idem, se voglio girare, guardate, se voglio cambiare l'orientamento della mia foto, Photoshop mi fa seguire in maniera assolutamente intelligente la rotazione del mio taglio in modo tale da tagliare in maniera più efficace e più razionale la mia fotografia. Già queste prime cose che vi ho fatto vedere per me fanno vincere di nuovo tutto quanto per quanto riguarda Photoshop CS6. Grazie a tutti. Grazie a tutti.